Buon proseguimento Senza sogni non si può vivere Ho creato la più grande esposizione di mobili Solo di qualità Con il contributo importante di idee, di organizzazioni, di progetti, di volontà, di passione Ho garantito a tutti i nostri clienti l'assistenza per sempre Siamo una perfetta organizzazione alla ricerca della massima qualità Ho fatto dei miei sogni La mia vita E il mio lavoro Fiera del mobile Riardo 600.000 metri quadrati al servizio della massima qualità Visitateci per capire Grazie a voi siamo diventati i primi Se vuoi sentirti sempre a tuo agio Ed avere un servizio che ti dia le risposte che cerchi Nel modo che preferisci Per te noi ci siamo sempre Prego Accomodati nei nostri negozi Perché per noi L'importante sei tu Arredamento completo Cucina, tavolo in vetro più sedie Lava stoviglie in omaggio Parete attrezzata Camera da letto con contenitore Tutto a 6.980 euro Trasporto, montaggio e assistenza post vendita Gratuiti Pagamenti a rate anche per pensionati Cameretti a partire da 980 euro Camere da letto a partire da 850 euro Pareti attrezzate a partire da 890 euro E noi ci troverete qui Cirella Arredamenti A testi anche di domenica mattina Cirella Arredamenti Via Charlie Chaplin numero 11 E via Argine numero 755 Ponticelli, Napoli Cirella Arredamenti Ieri, oggi, domani Segna sempre Matador Camani E per i piccoli campioni Ecco gli zaini di Camani Per studiare Da bene i tifosi E con i protagonisti Della scuola del cuore Trovate zainetti Trolli I quaderni Diari Astucci Tazze Stoviti Ombrelli E tanto altro ancora Sempre con colore Foto e logo ufficiali Dei calciatori Del Napoli E ora a tutte scuola ragazzi Con i nostri campioni L'unica e originale Collezione Scuola di Cabani Confetti Snob Quale gusto vi piace? Ricotta e pera Arancia Stracciatella Babà e panna Cocco Melone e anguria Tiramisu Ananas Limone Cappuccino Confetti Snob Più di ventidue gusti Per far contenti tutti Da Crespo Confetti